Le idee sono la culla dell'innovazione e l'innovazione è un bene che dobbiamo proteggere con una terza parte certificata. Dal 1976 Voltinam protegge le vostre innovazioni e i vostri investimenti per tutelare i vostri diritti di proprietà e anteriorità con una soluzione di archiviazione sicura e certificata. Con pochi clic potete effettuare un deposito digitale sulla nostra piattaforma online sicura e ricevere un certificato di deposito valido in 181 paesi. I nostri data center sono situati in Svizzera, non nel cloud, per garantire pienamente la disponibilità, l'integrità, la tracciabilità e la privacy dei vostri dati. Con Voltinam potete gestire i vostri depositi aggiungendo nuovi depositi o tramite aggiornamenti che tengono traccia delle creazioni. Con la nostra tecnologia blockchain beneficiate di una criptografia dei dati altamente sicura. È più evoluta di una semplice blockchain però. Vi permette di duplicare i vostri diritti senza perdere l'anteriorità, di trasferirli, di gestire il versioning e di affidarvi a una terza parte fidata per recuperare la vostra proprietà. In qualità di avvocato potete gestire i depositi e gli aggiornamenti per i vostri clienti, utilizzando la nostra piattaforma online attiva 24 ore su 24, che vi consente anche di aggiungere altri utenti. Il deposito in tutela può aiutarvi a vincere i condensiosi. Combinando tecnologia e diritto, Voltinam protegge l'innovazione.